Si è voluto andare lì, ostinatamente, non si sa perché, perché in Consiglio Comunale questo non se ne è parlato, non se ne è parlato, si è voluto andare avanti lì, adesso certamente tornare indietro... Perché è un luogo servito dalle vie di comunicazione importanti. Perché siete andati lì, strapagando un terreno agricolo, strapagando quattro volte tanto un terreno agricolo... Quello lo dici tutti, le perizie non le fa nel Sindaco, nel Giacomello, lo fanno gli uffici comunali... Tutti sanno cosa vale un terreno agricolo e tutti sanno cosa l'avete pagato, non parla della comunità. Perché non fai un risposto all'accordo del Gorgia? Non so, io faccio il politico, faccio il politico, faccio il politico e parli di cose che non sono così. No, è lei che non... No, è lei che non... No, è lei che non... Sta di fatto che la sede delle persone civile si farà lì, si verrà costruita, verrà ridimensionata... Se mi va, carta alla mano, se mi lascia un'ora in termissione con l'ex Sindaco, carta alla mano, vediamo come abbiamo fatto la faccenda. Io per il tempo, con persone che non capiscono, no, nessuna disponibilità... Se ci avrete fatto, passi indietro quando fai avanti. Nella produzione civile ci farà il partidor come avevamo deciso noi. È vero o non è vero? È vero perché ho torto collo, ho torto collo. Io ho torto collo. E perché? Dateci in realtà a testa bassa, perché avvate in testa solo questo. Perché è un'esigenza urgentissima di dotarci... Quella c'è e nessuno l'ha mai messa in discussione. Avete fatto le cose con i piedi. Adesso speriamo che ci vanno avanti naturalmente. Farla lì, l'ho detta e la ripeterò e la dirò anche in conseguenza. È una sconfitta per la città.